Oggi disegnerò mia sorella usando l'effetto Outline. Ora dovrai chiudere gli occhi e li potrai aprire solo quando te lo dirò io, così per te sarà una sorpresa. Iniziamo! Partiamo dai capelli... No, vabbè. Ma che belli, ti giuro, non ti ho mai vista con dei capelli fatti così bene, ma manca un parrucchiere. Cioè, stupendi, ti giuro, cioè, sembri madre natura, veramente, complimenti. Cioè, hai quel non so che di splendido e naturale che ti contraddistingue. Ok, tre, due, uno, apri gli occhi. Ma mi hai fatto con le corna? No, no.